Fughiamo quelle voci che ci sono dispiaciute in realtà perché abbiamo lavorato duramente durante il ferragosto e abbiamo ottenuto un risultato che all'inizio poteva sembrare insperato. Sì, io voglio dire che questa ventata di novità deve essere significativa per tutto il territorio terramano. E' un modo di concepire il calcio avveniristico, nel senso che non si era mai vista a Teramo una società che aveva aperto praticamente a tutte le componenti della società. E quindi io ai tifosi voglio dire che tutti sono chiamati a sostenere questo progetto perché Teramo non è mai di una sola persona ma è sempre di tutti i tifosi. Indipendentemente da dove si giocherà, quant'è che si dovesse giocare a campo di Porta Madonna, come era ai miei tempi e sempre il Teramo sarà.